Mistela Manna, dopo due parigi consecutivi il Casoria torna a vincere 1-0 sul campo del Cardito. Sì, oggi abbiamo fatto una buona vittoria su una squadra veramente ben messa in campo, ostica, e diciamo che questi tre punti arrivano proprio al punto giusto. Dopo un buon primo tempo nella ripresa la squadra è apparsa un po' contratta, quasi timorosa di portare a casa la vittoria. Forse i due parigi hanno pesato più di quanto potessimo pensare. Sì, infatti io prima della partita avevo detto ragazzi, adesso state incominciando a pensare alla classifica, devi arrivare prima, devi fare secondi, cioè stanno pensando alla classifica. Noi non dobbiamo pensare niente, perché così facendo giochiamo più sciolti, infatti il primo tempo abbiamo giocato benissimo. Nella ripresa invece si è avuto effettivamente la paura proprio di vincere, anche la superiorità numerica non si è vista poi in campo. Sì, diciamo che stavano pure qualcuno che non giocava pure da parecchio, non stavano più sulle gambe il secondo tempo. Avevamo pure una rosa rimaneggiata oggi e diciamo che si è fatta sentire un po' l'assenza dei ragazzi, ma non perché sono migliori in campo, ma solo perché erano più allenati gli altri che stavano fuori. Anche oggi erano diverse trascualifiche, assenze, almeno cinque giocatori praticamente, hai dovuto anche rimodulare un po' tutta la formazione con Palladino adattato sulla fascia, anche se poi hai perso più un 4-2-3 a un certo punto la squadra. Sì, abbiamo fatto un primo tempo veramente bello, pure con palla a terra, poi dopo ci sono mancate le forze secondo me, abbiamo adattato Palladino, Rocco che non giocava dall'anno scorso, abbiamo fatto giocare Formato che è la prima volta che gioca quest'anno, Indaco pure, lo stesso, c'è gente che stava ferma e non stavano più sulle gambe a fine partite. Però l'importante era tornare al successo, si è fatto su un campo veramente difficile come quello appunto di Cardito. Sì, questa è veramente stata una vittoria che ci voleva, perché i due pareggi poi si sono fatti sentire. Uno come è arrivato due domeniche fa, e quella domenica un pareggio era giusto, però incominciava ad essere un po' pesante, i ragazzi poi avevano pure paura di non portare a casa la vittoria e abbiamo intrediciato pure un po' adesso.